La sala polivalente dell'ex macello di Largo Gabrielli è poco distante dall'ospedale di Fiorenzuola. Con 100.000 euro per comprare gli arredi e sistemare i locali, si è trasformata da spazio culturale e diventata presidio sanitario. Da oggi è infatti operativo qui il centro prelievi per gli esami del sangue, 120 quelli che vengono effettuati quotidianamente in questo periodo solo su prenotazione. Quattro i box dedicati ai prelievi, un quinto box che in trenazione a mezzogiorno serve per i tamponi pre-ricovero. È il comune ad avere messo a disposizione questo spazio, incomodato d'uso gratuito all'Ausle, così da liberare il terzo piano del blocco A dell'ospedale. Avrà la funzione di centro prelievi. In questo momento il centro prelievi è al terzo piano dell'ospedale come sede provvisoria. Al terzo piano è prevista la realizzazione di sale operatorie, dell'area ambulatoriale e di dei surgery, per cui occorre fare questo spostamento sia per liberare in questo momento l'ospedale da un flusso abbastanza importante di persone, ma anche per permettere di poter lavorare il più rapidamente possibile. Bisogna dire grazie al comune che ha messo a disposizione questo edificio, sala polivalente. Sindaco, perché questa scelta? La posizione dell'ex macello è strategica perché si inserisce nella nostra idea, nel nostro progetto di cittadella sanitaria che va a chiudere tutto il quadrilatero tra Via Roma e Largo Gabrielli e Vicolo Brandacci e Corso Garibaldi. In questo modo noi centralizziamo qui il centro prelievi in attesa che vengono eseguite le sale operatorie e venga a completamento tutto il nostro ospedale. Grazie a tutti.